Musica Bella ragazzi, qui è Roni e me ne siamo qui oggi con un nuovo video con il quarto episodio della Roadtop Team Ragazzi, ho venduto Pugba e Niang, sicuramente Pugba lo ricomprerò un pochettino più avanti Non perché non mi è piaciuto, ma uno perché era stanco E poi l'ho venduto a 3500 in più Con tutti questi credit che ho fatto, a parte che ho venduto Niang anche per cambiare il modulo Ho messo un 4-1-2-1-2-1-2-1-2 E poi, con questi credit che ho fatto, voglio fare una seconda squadra, brasiliana Soltanto gli schillatori, quindi faccio la squadra e ci becchiamo Boom! Ecco la nostra squadra Poi ragazzi, oltre a questa squadra, se ve la faccio vedere tutta Ho comprato Diego Alves 1500 Rafael 1300 Casta 1800 Miranda 3600 Alexandro 1700 Sandro 1100 Felipe Melo 1800 Douglas Costa 1100 Ronaldinho 900 Tyson 650 Bernard 1900 Questa squadra costa intorno ai 20.000 Gli ho pagata 15, un po' di meno perché sono riuscito a comprare i giocatori al prezzo minore Poi, oltre a questa squadra, sono riuscito a comprare Bonucci in forma Mertens e il Barbo Li andiamo a mettere nella nostra squadra principale Le andiamo a mettere il nostro caro e signorino Bonucci Mettiamo anche Kuzmanovic in campo Così da fare più intesa con la Serie A E andiamo a mettere in panchina tutti i nostri brasiliani Ragazzi, i brasiliani li ho scelti in base alle skill e davanti sono quasi tutti 4-5 serie di abilità Per fare una squadra un pochettino divertente Prima di che vada a cambiare qualche giocatore Se non ci piace la cambiamo proprio, chi se ne frega Perfetto Questa qui è la nostra squadra brasiliana Questa qui è la nostra Serie A momentanea E ci sono rimasti 5.000 crediti e in più da vendere miang Quindi ragazzi, per questo video, anche se è durato pochissimo, mi scuso Però è tutto Vi saluto Domani ci sarà subito un altro episodio Quindi caricherò un episodio al giorno di questa serie Quando riuscirò Più che si è piuso di tutti, vi saluto e ci vediamo al prossimo video Bella ragazzi